Il teatro è come l'amore, non si impara, si fa. Ed allora in questa giornata mondiale dedicata al teatro, noi vogliamo sperare che il prossimo anno qualcuno cambi il suo titolo. Vorremmo che si chiamasse la giornata mondiale del pubblico. Un auspicio, una speranza, una grande attesa quella del ritorno del pubblico in questa giornata mondiale del teatro perché il pubblico ancora non è dato sapere quando potrà avvarcare la soglia del teatro comunale di Vicenza o del teatro olimpico, il più antico teatro coperto al mondo. E in questa giornata che avrebbe voluto vedere sul palco muoversi attori e ballerini indirettamente è il pubblico il protagonista. Non vedo l'ora di ascoltare qualcuno che con la sua voce mi racconti una storia. Per dire seduto là in fondo chissà come sarà quell'attore visto da vicino. Quel pubblico che ride, applaude ed è partecipe fondendosi con chi sta sul palco. È impossibile per il teatro fare uno spettacolo senza il pubblico visto che lo compone. Per me la cosa più mancante, più manchevole sono le persone. Quindi sia il pubblico durante gli spettacoli sia le persone con cui lavoro molto a tu per tu, poi molto a stretto contatto.